Il Comune di Bari si faccia portavoce dello sdegno nazionale per la scarcerazione del terrorista Cesare Battisti. Lo hanno chiesto questa mattina i consiglieri di opposizione in un documento che presenteranno domani in Consiglio Comunale. Ce ne parla Mirko Cafaro. Consigliere Gemmato, oggi il coordinamento delle opposizioni pone due questioni. Una vicenda di carattere di respiro internazionale, ossia la liberazione e la scarcerazione di Cesare Battisti e poi la questione della chiusura del lungomare. Cominciamo dalla prima questione. Cosa chiedete? Noi impegniamo il Consiglio Comunale a farsi portavoce, parte diligente rispetto ad altre istituzioni, quindi il governo italiano, l'ambasciata brasiliana, affinché l'innominia di questo episodio venga scongiurata. E soprattutto noi ci chiediamo altre istituzioni pugliesi. Mi riferisco evidentemente al Presidente della Regione Puglia, che ambisce a diventare governatore della nostra nazione, quindi Presidente del Consiglio, quale sia la sua posizione. Avvocato Cea, veniamo al secondo punto. La chiusura del lungomare nelle serate estive che tante discussioni sta sollevando. Io credo che sia effettivamente da criticare quel tipo di provvedimento per diversi motivi. Il primo è in assoluto perché chiaramente ho l'impressione che la città non lo voglia. Quando dico la città intendo sia la parte economica della città, commerciale, quindi tutti i ristoratori, ma sia soprattutto molti cittadini. Poi mi chiedo come può una città capoluogo di Regione immaginare di creare uno spazio per i cittadini sulle strade, cioè chiudere una strada peraltro di traffico intenso e quindi impedire anche ai residenti di poter raggiungere serenamente le proprie abitazioni. Per far cosa poi non l'abbiamo ancora capito e lo vorremmo capire. Istituire un rapporto di reciproca collaborazione tra i comuni di Bari e di Margherita di Savoia è il centro del protocollo d'intesa sottoscritto oggi a Bari, tra il sindaco Michele Emiliano e il primo cittadino del comune foggiano Gabriella Carlucci. Obiettivo comune è sostenere e valorizzare con nuove iniziative il settore turistico della nostra regione, supportato da una rete di informazioni. E tutti al lavoro per fronteggiare la grave situazione di emergenza che ha colpito alcuni comuni del Barese in seguito alla grandinata dell'8 giugno scorso che ha messo in ginocchio l'agricoltura. Maria Alessandra Bellomo Attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale, inserimento di un emendamento al DDL Sviluppo, le proposte dei parlamentari del PD Dario Ginefra e del PDL Luigi D'Ambrosio Lettieri che questa mattina hanno partecipato all'incontro voluto dai sindaci dei comuni di Bari colpiti dalla grandinata l'8 giugno scorso e dal presidente della provincia Francesco Schittulli per fronteggiare la grave situazione di emergenza in atto. Devastanti danni a carico dei ciliegi, degli ulivi e degli ortaggi, altrettanto compromessi risultano in pianti e strutture agricole. Un appello a cui la regione Puglia ha risposto tempestivamente, ma il presidente Schittulli si augura di ottenere aiuti concreti nel più breve tempo possibile. Ho già ricevuto comunque una telefonata anche da parte della regione Puglia, il che è confortevole. Stamattina hanno inviato un loro rappresentante, la stessa prefettura. Ora cerchiamo di quantificare i danni e poi di poter procedere in tal senso. Noi dobbiamo cercare di poter garantire intanto i nostri prodotti, poi la qualità dei nostri prodotti, altrimenti pieghiamo un'agricoltura che è già sofferente. Il sistema bancario è davvero al fianco delle famiglie e delle imprese. Come recitano gli slogan pubblicitari? Ce ne parla Michele Cristallo. È sempre più difficile oggi essere un soggetto con accesso al credito bancario, nonostante il battagio pubblicitario sempre più diffuso sui giornali. Gli slogan sono efficaci nella loro locuzione, con un buon tasso di appetibilità. Nel concreto però la situazione è diversa. La vita è fatta di alti e bassi e nel momento del bisogno noi ci siamo. Ecco uno degli slogan. Il cittadino legge il messaggio, si rega in banca e qui cominciano le sorprese. Informazioni sulle garanzie, una approfondita anamnesi della propria storia economica ed un rinvio alla conclusione della pratica istruttoria. I tempi di attesa si rivelano lunghi e nella maggior parte dei casi interviene la delusione del tipo siamo spacenti ma eccetera eccetera. Per una salutare verifica provate a chiedere ad una giovane coppia che in vista del matrimonio medita l'acquisto della casa da finanziare con un mutuo bancario. E poi c'è il credito alle imprese. La situazione è drammatica nonostante l'assicurazione che il sistema bancario viene incontro agli imprenditori per aiutarli in questo momento di grave crisi economica. La verità è che le banche si tutelano chiudendo i rubinetti. C'è grande attenzione alla raccolta indubbiamente ma una grande prudenza negli impieghi. L'alibi del monte delle sofferenze in crescita è un alibi che regge fino a un certo punto. Le categorie più fortunate riescono a sottoscrivere protocolli d'intesa con l'ABI per assicurare alle imprese in difficoltà di liquidità la soluzione dei loro problemi oppure fare affidamento sui consorsi dei fidi. Per gli altri la solita istruttoria che si blocca all'esame del bollettino degli insolventi senza alcuna attenzione alla storia dell'azienda, del suo titolare, alle prospettive aperte da credibili piani industriali. E gli slogan evidentemente servono per disegnare l'immagine di un sistema bancario volano di sviluppo. Ma a parole. Diamo adesso uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Nubi sparse, vento da nord ovest con un'intensità di 15 km orari, temperature comprese tra i 18 e i 27 gradi. Vi ricordo come sempre i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net. Prima di lasciarvi vi ricordo lo speciale sui 20 anni della concessionaria dell'Harley Davidson. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.